La cerimonia di premiazione ha suggerato la chiusura del primo stage per portieri di Cosenza, ideato da Alessandro Greco, portiere del Rende, messo su assieme a Franco Viola, già preparatore dei portieri del Cosenza Calcio, e Antonio Fischetti. Una iniziativa che ha visto la partecipazione al Marca di Cosenza di 25 piccoli portieri, per cui ha rappresentato una grande occasione. Noi siamo stati felicissimi ad ospitare Alessandro, perché è un ragazzo che si ha da fare. Quindi è il primo stage per portieri, ma al di là io l'ho visto lavorare. E quindi lavorare sullo specifico oggi è importante. Quindi lui ha lavorato sui difetti del portiere. Devo dire che è stato veramente, al di là del grande stage, del grande evento, una cosa importante per questi futuri portieri. Si chiude il sipario perciò sull'evento, riuscita ad infondere nei ragazzi un forte senso di crescita. Senz'altro dopo solo due settimane di allenamenti, anche se sono poche, grazie ai mister, sono preparatissimi e abbiamo imparato un sacco di cose. Infatti sono sicuro che non solo io, ma tutti siamo migliorati, non siamo più le stesse rispetto a due settimane fa.